At all Io sono Pinocchio il ranocchio Dite il vocabulary check on ranocchio Va bene, come ho detto prima Io sono Pinocchio il ranocchio E la parola giusta è veramente ranocchio Adesso facciamo la sigla Ma questo lo faccio in inglese sempre perché altrimenti i bambini saranno arrabbiati Fraggy, fraggy bitches Mamma mia Cosa guardi? Oh, state guardando a me? Ok, va bene Io sono, come ho detto prima Pinocchio il ranocchio Io sono un vero ranocchio E per dimostrare quanto sono un vero ranocchio Oggi io farò una cosa pazza veramente Il libro Maestro Io sono un vero ranocchio E come sappiamo I ranocchi Leggono Dei libri Come funziona questa cosa? Io non capisco veramente ma Io penso Ah, sì, sì Questo è Va bene, va bene così Va bene, va bene così Va bene, va bene Oddio La targhetta Che imbarazzante C'è sempre questa sensazione Che qualcosa mi sta guardando Non sono sicuro Ma ho questa sensazione di essere Guardato sempre Ma va bene, va bene, va bene Quindi Io Farò questa cosa Di leggere un libro Corretto questa volta Perché Come potete vedere Il libro Non ha la posizione giusta per leggere Quindi io faccio Veramente così Qua E sì, 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 sì Questo libro è Ma Cavolo Questo libro è inglese Perché Io Parlo solo l'italiano Io Parlo solo l'italiano Raci 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 Allora Questo non è successo Come ho programmato prima Ma Sto bene Sto bene Sto bene e il cuore hanno un po' di danaggio va bene questo concludo con questo concludo l'episodio di oggi ciao a tutti tanti baci e abbracci